le mie zucchine, quelle che mi hai chiesto in direct non prendono di quel sentore amarognolo e sono molto più veloci da fare regola la mandolina nella parte più stessa così affetta, affetta, affetta griglia bollente senza olio disponi le zucchine e falle asciugare per bene per esempio Marco ha deciso di non fare merenda perché ha visto le zucchine gli piacciono tanto e vuole gustarsele a cena ma c'è un segreto per le zucchine l'olio buono, quello di giù quello che ti mettono nella bottiglia della coca cola e quindi ai bambini piace semplice, olio e sale ma se vuoi aggiungi un pochino di prezzemolo, dell'origano, uno spicchietto d'aglio l'accostamento del cuore mio è con un filetto di alici grazie grazie